Sabato prossimo alla Spezia la Gran Fondo, ma ci sarà una parte riservata ai bambini. Chi le organizza e di che cosa si tratta? Innanzitutto grazie per l'invito. L'associazione Amici del Cuore della Spezia, che ha circa 20 anni dalla nascita, organizza quello che noi chiamiamo il gioco della salute, che ha come obiettivo la promozione della salute a 360 gradi ed è rivolto ai bambini dai 6 anni fino ai ragazzi dai 14 anni, in cui verrà effettuato il gioco della salute, che è un gioco dell'oca rimaneggiato, per cui i ragazzi o i bambini dovranno rispondere a semplici domande con tre risposte utili e se la risposta sarà positiva, sarà giusta, tireranno i dadi e andranno avanti e quindi termineranno il gioco. Quindi un modo di fare educazione alla salute giocando proprio. Sì, si può dire anche la salute in gioco, però il gioco della salute forse è un termine migliore e la promozione della salute inizia veramente nell'età più piccola, perché la prevenzione si fa soprattutto partendo dai piccolini e continuando negli anni per cercare di stare bene da tutti i punti di vista. Ecco, un processo educativo che parlerà anche di stili di vita. I bambini è bene che imparino da piccoli e talvolta sono maestri anche per i loro genitori. Questa è una cosa veramente vera, è assolutamente vera. Sono proprio i bambini che portano, che insegnano ai genitori quello che può essere uno stile di vita giusto perché lo apprendono a scuola e la scuola e la famiglia sono assolutamente fondamentali per quello che riguarda la promozione della salute, come la promozione dell'istruzione e come tante altre cose. E se posso dire una cosa, la dieta mediterranea la dobbiamo assolutamente con perseverazione cercare di attuare perché è veramente la dieta migliore al mondo. Ecco, come aderire a questa iniziativa? Come potranno i bambini presentarsi? Devono fare un'iscrizione o è sufficiente presentarsi sabato alle 15 in zona? No, basta presentarsi sabato 24 alle 15.30 in Viale Mazzini e poi iniziamo i giochi.